Mi scherzo più. Allora, come si prende la parola? Ce lo spiega Alberto Gianbruno. Io! No, 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 si fa così. Vai. No, no, vai, vai. Hai visto? Suoni la campanella, ti scarichi un'appo, suoni la campanella. Mamma mia, meno male. Perché se alzo la mano non mi date la parola. Meno male che sei di fianco a Barbato e quindi tu metti un po' d'ordine. Stiamo evolvendo. Allora, noi abbiamo sottovalutato, ho sottovalutato, il buon Giampiero Gasperini. Perché dopo questa conferenza a fiume, dove è stato anche abbastanza prolisso nelle risposte, ma, a prescindere dalla questione Scalvini, che è un episodio... Già vuole intervenire prima. Cosa vuoi dire? No, mi hai partito da solo. A prescindere dalla questione Scalvini, che è una cosa anche abbastanza triste, sportivamente parlando, era una conferenza, diciamo, soft, dove imperavano i complimenti giustamente per la stagione dell'Atalanta. Abbiamo saltato l'ultima domanda, però l'abbiamo recuperata, grazie a Francesco Bonfanti che ce l'ha tagliata al volo. Credo ci sia anche la domanda, non lo so, qualora non ci fosse, ve la dico io. Come si colma il gap con l'Inter per lottare per lo scudetto? Sentiamo Gasperini la risposta. Quel divario, come si colma? Non è che dico che vada necessariamente colmato. Ma si può fare in tanti modi. Ad esempio, facendo un miliardo di debiti e comprando... Dando contratti a destra manca ai giocatori, questo può essere un modo. Un altro modo è quello, non so, non vendendo i pezzi migliori, aggiungendo altri pezzi. Però poi il terzo modo è quello di guardare a quello che sei, pur con le ambizioni, ma però anche con la lucidità di capire come funziona il mondo, altrimenti sono solo chiacchiere, solo parole che riempiono la bocca. Punturone di Gasperini, io non devo schiacciare la campanella, almeno all'inizio, poi mi chiamo fuori e urlate tra di voi. Punturone di Gasperini, cosa c'è? No, se posso parlare, no, dimmi. C'è il conduttore. Conduttore, si chiama il conduttore. Conduttore, perché conduce. Dice Gasperini, un modo per vincere, per colmare il gap con l'Inter, è fare un miliardo di debiti e dare soldi a destra e a manca ai giocatori. Io vorrei sottolineare… Mamma, dammi la clava, si diceva una volta, e questa volta l'ha usata la clava. È chiaro che si riferisce a l'Inter, no? Perché la domanda è una diretta. Qualcosa è un contrario rispetto a come sia andata? Allora, i debiti dell'Inter… È difficile dargli torto, per quanto sia… Come è difficile dargli torto? Posso dire una cosa veloce? Simone, se non è neerente, ti giuro. Io quando parlo dico sempre cose diverse da tutti, o nel bene o nel male. Quindi dico una cosa con cui non entro in competizione con voi. Quindi state tranquilli che dico una cosa assolutamente fuori dal coro. Sì, ma no, ma deve essere attinente all'argomento, però. Avete notato… Gli occhi. In un certo punto, in qualche centesimo di secondo, gli occhi di Allegri. Sembrava l'imperatore… Ma qual è Allegri? Ma qual è Allegri? È Gasperini. È di Gasperini. Con niente di una grappa. Ma scusate, se mi parlate in venti, io come faccio a ragionare? Cioè, è colpa nostra, quindi. Fatemi esprimere, no? Non posso parlare, mi saltate su in dieci quando parlo. Allora. Ma tu cita quelli giusti. A un certo punto dell'intervista… Scrivitela. Qualche centesimo di secondo, non so se 5 o 6… Questo ce l'hai già detto. Gasperini? Ho notato un cambio negli occhi di Gasperini. Sembrava l'imperatore di Guerra Stellare. È sudditanza psicologica. L'imperatore di Guerra Stellare. Dell'imperatore di Guerra Stellare. Lì ho visto odio e rancore. Non mi sono piaciuti tanto quegli occhi lì a me. Caro Borrelli. Non mi sono piaciuti tanto quegli occhi lì a me. Abbiamo pure una caratterizzazione psicologica. Ma ragazzi, secondo lui, secondo loro, un uomo di calcio come Gasperini dice le stupidaggini. Perché gli è venuto un miliardo di debiti? Dove se l'ha inventato? Eh, appunto. Non ha studiato a far l'economia. Ma si potrà togliere, no? Qualche sassolino rispetto a quanto ha ricevuto di brutto e negativo. È l'unica squadra big che l'ha chiamato. Eh, ho capito. Ma lì avrebbero sbagliato tutti, Michele. Lo sai anche tu. Dopo Mourinho avrebbero sbagliato tutti. Però ragazzi, posso dire una cosa? Moratti non ti metteva nelle condizioni ideali. No, però sì, ma è stato sfortunato andare all'Inter in quel momento storico. Dopo aver vinto l'Europa League con l'Atalanta. C'è ancora se l'aggo il 2011-2012. Però si potrà togliere qualche sassolino. Ho capito, ma dice cose non vere. Eh, beh, parliamone. Eh, parliamone. Scusate, scusate, scusate tanto. Ma quando un allenatore è venuto a giocato, quante partite ha giocato Gasperini? Dell'Inter. Eh. Ma tre di campionato, una di Champions League, la Supercoppa in Catania. Le ha perse tutte con tre o quattro gol di scato. Ma quando mai? Ma io voglio, scusate, le ha perse tutte. Le ha perse tutte, una a tre a zero, l'altra a due a zero, l'acqua a quattro a tre. Tornare sull'argomento Gasperini che dice sta cosina qua. Allora, intanto, finalmente mi capita di fare una trasmissione col mio amico dopo il famoso escursione del debito. Allora, io ricordo, perché ci sono qualche quintale di bobine lì in regia, quando io dicevo, guardate che questa cosa del debito che deve essere ripagato entro la tal data, non è così sicura che sia facile a trovare. E dice, non c'è problema, c'è Pimco che prende i soldi di qua e li metti di là. Allora io faccio solo una domanda all'amico. Poi posso rispondere anche. Ti faccio una domanda per farti rispondere. Perché Pimco non vi ha dato i soldi? Attenta la campanella di Gian Bruno però. Ecco, quello che voglio rispondere per l'ennesima volta, è che tu il 20 maggio l'hai sempre prefigurato come una data in cui poteva succedere qualcosa di negativo per l'Inter. Ma non è negativo questa roba qui? Che cosa c'è di negativo? Ma come? Allora quando abbiamo fatto noi il passaggio dal cinese al fondo Elliot che ci hanno scritto un bel nove colonne nel vostro giornale preferito, ho scritto... Se hai ben chiaro quello che è successo... Ragazzi, una alla volta, c'è tempo, ho scritto... Sprofondo? Sprofondo. Sì, ho capito. Sprofondo Milan. La scadenza. Adesso, secondo te... La scadenza del 20 maggio. Scusa, è come dice Gasperini che voi andate in giro a spendere e a spandere e invece con un fondo questa roba non ve la potete permettere. Gasperini la chiudo in 15 secondi perché sa benissimo che il costo... Perché voi state facendo passare questa cosa come una cosa positiva. Esatto, ragazzi, una alla volta, se no da casa non si capisce niente. Gasperini in 15 secondi gli si può subito rispondere che il costo squadra è in base, da regolamento UEFA, ma anche in Italia, in base ai ricavi del club. E la dimensione di Inter, Milan e Juventus è diversa da una squadra che ha ricavi più bassi. Quindi non c'entra niente alla situazione debitoria che invece devi avere delle scadenze temporali e non debiti scaduti. Sai qual era la mia domanda? Chiuso Gasperini. Invece parlo con te adesso. La mia domanda te la ricordi qual era? Tu hai sempre prefigurato, dato irra oggi, perché non ci vediamo da dieci giorni, ci vediamo da anni, hai sempre prefigurato la fine del mondo nerazzurro che stava per arrivare. Secondo me era una bella rivoluzione in negativo questa. È una rivoluzione in negativo. Allora, Tri, invece, mi è piaciuto così tanto quello che hanno intravisto in questi tre anni da, diciamo, osservatori un po' interni, ma soprattutto esterni, che hanno detto, allora, devi vendere tu l'Inter a Zang, la possiamo vendere benissimo noi. La gestione, non eravamo interessati? Tanto non è che bisogna fare granché. Quelli che stanno lavorando, ci piace come lavorano, devono continuare così. Tanto che appena arrivano, a differenza di Elliot, che prende una situazione complicata da Yong Gong Li, che cosa fa? E cosa ha fatto Elliot? Ha sanato la società. E tu pensi che questi oltri non sanino i debiti che ha l'Inter? Oltri, la prima cosa... No, non è necessario il debito... Ah, no, rimane in negativo. Tu chiami fondo e non vuoi garantire ai proiezionisti il guadagno? Che il bond scade a febbraio 2027. No, quelli sono i bond, io parlo del debito. Il bond è il debito finanziario che ha l'Inter, il resto è calato, è quasi finito. Però tu non hai risposto alla mia domanda. Te lo sto dicendo, Oltri arriva... Oltri, è tutto necito, è tutto necito. Perché il fondo più ha conviato il grano. Oltri, appena arriva, la prima cosa che fa, conferma tutto il management dell'Inter e adesso rinnova pure i contratti a Lautaro, Inzaghi e Barella, che erano le situazioni dove voi, o tu o tanti altri, adesso vedrete che arriverà il fondo... Registrate questa roba qui, che rimangono tutti, Lautaro, Barella, Bastoni, registrate. Perché invece a te risulta che Lautaro non ha firmato, che Inzaghi non rimane? Non è che tutti, anzi, fanno investimenti. Vai. No, ma rispondi alla mia. Non è che fanno investimenti. L'Inter, già da prima di Oltri, era sulla strada del riequilibrio costi-ricavi. Non è che deve arrivare chissà chi. Proseguono su quella strada. Ma perché non vi hanno dato i soldi quelli di Oltri? No, non vi hanno dato. Tu confondi Zang con l'Inter. Ma no, non c'entra niente. No, era il proprietario dell'Inter. Che ci ha lasciato 400 euro. Ma passava di là. E' il proprietario che ha portato l'Inter da una dimensione settimo posto a essere campione in Italia, ha raddoppiato il fatturato, ha lavorato in un certo senso e ha fatto quello che ha fatto in positivo per l'Inter. Il 20 maggio però, per una situazione post-pandemia, aveva una scadenza. Quella scadenza metteva a rischio il suo futuro con l'Inter. Non l'Inter. Non l'Inter, come avete raccontato voi. Perché lui ha perso l'Inter e non si è fatto dare i soldi da qui? Perché Oltri poteva dire di no all'ingresso di un terzo, perché il prestito era legato a una futura vendita. Che non c'è stata. Ezio, poi Simone. No, io velocissimo. Prego. Io sono contento per Michele. Sei veramente dentro di sé. È convinto che tutto quello che accade di nuovo nel mondo Inter sia migliorato. Cioè, loro ogni volta abbiamo risolto. Lui è un ottimista per Michele. Io ho migliorato, non ti dico. Più o meno è come prima. Non cambia niente. Perché l'organizzazione è uguale. Cambia tutto, ragazzi. Ma essere da un'industria. Però sei d'accordo che tu sai cosa lasci? Cioè, ormai ti hai fatto un'idea di Zang. E non sai invece Oktri. Immagini che faccia questo o quell'altro. Ragioni dicendo cose sensate. Ma lo fa per un agnale. Però non lo sai di fatto. Ma non lo sa nessuno. Ha fatto già delle cose. Ha detto e ha fatto delle cose. Ma è appena arrivato. Ma hanno detto che Marotta... Hanno detto... E no, l'hanno anche fatto. Hanno un contratto e li potevano cacciare. Non l'hanno cacciato. Ma vogliamo... Ragazzi, gli hanno proposto la presidenza al Marotta. Ci sono lì, come tutti i fondi, per guadagnare. E certo. E quindi hanno capito che con l'Inter si può guadagnare. Se no, non entravano dentro. Ma come si guadagna con l'Inter? Vendendolo a una cifra alta. Sanando i conti, perché la prima regola è sanare i conti. Ma l'Inter lo stava già facendo. Quello che ti spugge è che l'Inter lo stava già facendo. L'Inter ha fatto negli ultimi anni meno 245, meno 140, meno 80, meno 40. Non mi risulta che l'Inter abbia un bilancio inutile, è sotto di 70 milioni. Ma sta andando verso. Ti chiedo scusa, ha preso due parametri zero, uno è il Taremi che paga 4 milioni l'anno e ha dato 10 milioni alla gente. Insomma, ragazzi, quando vai a prendere dei parametri zero, carichi di sovraccarichi di costi in una società. No, spendi un po' di più di ingaggio e paghi meno di ammortamenti. Non è la filosofia di un fondo. Ma la filosofia di chi? Ogni fondo può pensare diversamente. No, no, diversamente non c'è. Ma come diversamente? Stanno rinnovando l'autore a 10 milioni all'anno. Il fondo deve guadagnare soldi. Eh, per guadagnare devi essere competitivo. Quello che ancora non ha capito Cardinale. Che Duram dice no, io non lo prendo perché guadagna 6. Ma magari prendi l'attaccante che ti fa andare al Mondiale per club e prendi 50. Essere competitivi nel calcio non è un dettaglio. Non è la filosofia di un fondo. Il fondo deve vendere il club. Per vendere il club, come hai detto tu. Deve avere i conti a posto. E non basta. E non li hai facendo investimenti. Non basta. Gianni, per avere i conti a posto devi avere i ricavi che sono un certo status. E per averli devi fare bene soprattutto a livello europeo e internazionale. Perché è da là che arrivano i soldi. Ma devi esserci. Ma non gliene frega niente che tu vinca la Coppa dei Campioni. Devi arrivare nei primi quattro per partecipare. Tu devi vedere l'esempio del Milan. No, no, è il Milan che vede l'esempio dell'Inter. Ragazzi, ragazzi, è la gestione di un fondo. Abbassiamo il volume, per favore. Un fondo, ragioni in quel modo lì. Abbassiamo il volume. Stiamo vedendo le scelte. Quando mi farei vedere che la scelta va controcorrente rispetto a quello che ti sto dicendo, ti dico va bene, hai ragione. Ma ad oggi sono entrati nell'Inter. Non avevano questa intenzione due anni fa. Ma sono parole, ragazzi. Ma che parole sono fatti? Quando saremo qui il primo di settembre, vedremo che campagna ha fatto l'Inter. Ah, ok, ok. Se se ne vanno tutti, ti dico, hai ragione. Vedremo l'uomo dei numeri, perché ci metteranno un amministratore loro. Allora, aspetta, sono d'accordo su questo. Vedremo il primo, il 30 agosto, finisce quest'anno il mercato. Se se ne andranno i big, perché devono fare caso, no, due o tre, quattro e cinque. No, di quello che ci parlavi di Suning, adesso mi dirai... Di Suning quando è arrivata, è arrivata perché hanno investito un miliardo, Ezio. Sì, ma ne parlavi. Ha perso un sacco di soldi. Fanno lo stadio, compran lo Suning. E lo stadio che è colpa di Suning, è colpa di Suning, dai. Lo stadio sta ancora lì. Tutto. Ti abbiamo chiamato per mesi, per anni, mulino bianco, eroticamente. Eh no, hai capito, hai sette trofei in quattro anni, il mulino bianco sta davanti a voi, non lo volete vedere? Non l'avete più visto. Ma vi ha fatto impazzire il mulino bianco. Sentiamo, sentiamo Simone. Ogni anno siete lì, sempre a rosicare di bocca. Simone, 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 dicca. Allora, adesso vi siete, avete dibattuto, vi siete aggrediti, scannati. Io vi ho fatto parlare. No, no, no. Vi ho fatto parlare. Hai prenotato? Grazie. Ci ha fatto parlare tutti. Adesso io chiedo, per una volta nella trasmissione stasera, mi date un minuto per dire una cosa, ma senza essere interrotto? Posso? Cioè tu mi stai chiedendo la parola da tre quarti d'ora perché devi fare qualcosa. No, 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 non a te, a tutti i miei cari amici. No, ma sì, ma da tre quarti d'ora mi guardi, mentre c'è il dibattito, e tu volevi cambiare argomento. Allora, io volevo stemperare tutta questa discussione. Parlare del festival di Sanremo. Ritrovare la calma dicendo questa cosa qua. Ho ricevuto messaggi ai limiti dell'insulto, appena è successo questo fatto. Ai limiti. Siete dei mercenari, non avete bandiere, siete falliti. Uno poco fa mi ha detto, parlate tanto di bandiere valori, di principi, adesso, dopo quello che è successo alla vostra società, altro che attaccamento alla maglia, dove sono finite le bandiere? Ecco, te l'ha scritto appena. Io vorrei rispondere con questo documento che mi sono scritto appositamente da casa e volevo leggermi. Un documento ufficiale. Mi prego di non essere interrotto perché è una cosa seria. Ma ci mancherebbe altro, scusaci anzi. Francesco Moriero, tifa per noi. Yuri Giorcaef, tifa per noi. Fabio Galante, tifa per noi. Ivan Zamorano, tifa per noi. Walter Zenga, tifa per noi. Gli amici e tutta la fondazione Pupi di Zavier e Zanetti, tifano per noi. Federico Di Marco, tifa per noi. Lautaro Martinez, tifa per noi. Evaristo Beccalossi, tifa per noi. Massimo Moratti, tifa per noi. Adriano L'Imperatore, tifa per noi. Cristian Vieri, tifa per noi. Alessandro Bastoni, tifa per noi. Beppe Baresi, tifa per noi. Paolo Stringara, tifa per noi. Nazareno Canuti, tifa per noi. Riccardo Ferri, tifa per noi. Tutti i cugini Barbato di Barbato Simone, tifano per noi. Hernan Crespo, tifa per noi. Il miglior marcatore della storia della nazionale italiana. Ander Venturo, Nicola Ventola, tifa per noi. Matteo Darmian, Cristian Asnani, Roberto Baggio, Regina Baresi, Nicolino Berti, tifano per noi. 55 milioni di tifosi nel mondo, tifano per noi. Ora e sempre nei secoli dei secoli. Cielo nero azzurro proteggici, ora e sempre nei secoli dei secoli. Cielo nero azzurro proteggici, ora e sempre nei secoli dei secoli. Che ansia. Tutti questi tifano per noi. Grazie. Ma Roberto Baggio tifano per noi perché? Forse dire un bel chi se ne frega di tutto questo. A chiudere il discorso. A parte questo che è il tuo parere. Ma Roberto Baggio perché è tifo? Roberto Baggio è interista, lui non lo sapeva. Roberto Baggio è interista. È interista, certo. Di famiglia abbiamo scoperto. Lo conosco anche, tra l'altro. Lo conosci, certo. Lui conosce te? Io pensavo fosse del Brescia, pensa te. No, è Roberto Baggio è interista. Occhi secondi e sarà ufficiale. Il Venezia accompagna il Parma e il Como nella Serie A 2024-2025. Un ritorno per il Venezia, guidato da Vanoli che come vi dicevamo prima sembra avviato verso il Torino. Per la panchina del Torino nella prossima stagione. Aspettiamo magari il fischio finale. Ma la Cremonese adesso dovrebbe fare due gol nel giro di pochi secondi. Adesso il Venezia libera l'area di rigore. Vediamo se l'arbitro propende per il triple C. e il fischio che arriva in questo preciso istante. Il Venezia torna in Serie A. Recoba che tifa Venezia. Corro, non barri vicino a Venezia. Eccetera. Il Cino, grande Cino. Eccetera. Grande, grande Cino. Dino Baggio tifa per loro. Certo. Lautaro Martinez, ragazzi. È arrivato il rinnovo proprio quando sembrava che le parti fossero molto lontane con la gente di Lautaro. e Lautaro stesso a chiedere cifre importanti. Si era parlato addirittura di una cifra a salire da 12 a 14 a 16. È arrivato questo rinnovo che si attesta con i bonus sui 10 milioni di euro. Come l'hai letta questa situazione, Michi? Ma io credo che alla fine, volendo arrivare alla doppia cifra, dove l'Inter non voleva arrivare, almeno come parte fissa, a un certo punto hanno alzato la posta chiedendo 12, l'offerta dell'Inter era 8 e lì alla fine diciamo che l'Inter ha ottenuto il suo, cioè non c'è la doppia cifra ufficialmente perché la parte fissa è 9. Lautaro ha ottenuto il suo perché a 10 diciamo che con i bonus può addirittura superarli, anche se alcuni bonus non sono assolutamente facili. Adesso oggi qualcuno addirittura ha scritto di un bonus legato alla vittoria della Champions. Certo è che non era però scontata la chiusura, perché se Lautaro non fa una scelta come una scelta ha fatto alla fine, secondo me lui non fa fatica a trovare in Europa un club, anche se non c'era in questo momento, se va sul mercato, secondo me è un attaccante che può ambire anche a guadagnare un po' di più. Però scusa, allora mi hai risposto alla domanda, perché la mia domanda a te, non giornalista ma tifoso, sarebbe stata... Io mi auguravo che si arrivasse alla conclusione positiva. No, no, ma la domanda era, ti ha un po' infastidito l'atteggiamento di Lautaro, che è da capitano dell'Inter, che si professa amante di questa maglia, eccetera, ha tirato molto la corda, e tu tra le righe mi stai dicendo che invece Lautaro ha fatto un atto di amore ad accettare 10 milioni di euro per rimanere all'Inter. No, secondo me... Non mi hai detto così? Non ho parlato di amore, però non era scontato insomma che potesse... Allora, tu devi fare una scelta. Altri hanno fatto la scelta, i tifosi dell'Inter si sono anche un po' arrabbiati in questi giorni, perché la trattativa è stata a un certo punto mediatica, per volere della gente di Lautaro che diceva cose diverse da Lautaro, perché Lautaro diceva mancano due cosette. La gente diceva Mbappé e Haaland sono della stessa fascia, e quindi faceva presagire che l'accordo era impossibile. Poi Lautaro a un certo punto dice no, fermiamo la giostra, fermiamola, ci sta bene, perché fa una scelta secondo me. Non dico esclusivamente di cuore, perché lui comunque si trova bene a Milano, si trova bene all'Inter, è ambizioso, è diventato leader e capitano di questa squadra, ma siamo reduci, tifosi dell'Inter erano reduci da Casis-Kriniar, fascia da capitano, che oggi ancora ribadisce che a Parigi non si è pentito di essere andato. Sì, Lukaku. Lukaku che vengo, poi torno e poi se ne arriva di nuovo, non accetta. Quindi secondo me nel calcio di oggi, col campionato italiano di oggi, che è un campionato di passaggio, soprattutto quando il livello di alcuni giocatori si alza, vedi Ossiman, vedi chi se ne è andato negli ultimi anni, non è scontato che un giocatore... Ma chi lo voleva Lautaro però? Ad oggi non risultano offerte, anche perché è un ruolo dove, stiamo parlando di società o di ruoli altissimi, cioè per migliorare la posizione dell'Inter ti deve volere Real Madrid, il Barcellona, il Paris Saint-Germain, il Bayern Monaco, due o tre big inglesi. Di queste Real Madrid ha preso un bappé, il Barcellona non è nell'estate in cui si può permettere 100 milioni di spesa. Il Paris Saint-Germain era una possibilità, il Bayern Monaco no perché è coperto con Kane, e in Inghilterra i due club che forse prenderanno la punta, c'è l'Arsenal che fa la Champions, il Manchester United non si sa, cambia allenatore... Quindi in verità non c'era... Eh, non c'era il grande movimento di... Però c'era la possibilità di continuare a dire io tiro la corda ma non firmo, perché tanto il contratto è ancora di due anni. Quando Lautaro secondo me ha anche visto che iniziava un po' l'ambiente... A scaldarsi. A scaldarsi, a un certo punto ha detto io posso buttare via senza avere tra l'altro un'altra squadra dove tutto quello che ho creato perché rifiuto, che ne so, nove più bonus, perché l'Inter è salita di un pochino. Certo. Perché da sette, otto, otto più bonus, adesso sono nove più bonus. Quindi credo che alla fine abbia fatto una scelta giusta, buona per i tifosi dell'Inter, sicuro. Per l'Inter sicuro, ma anche per lui stesso, visto che ad oggi è amatissimo all'Inter e può ambire i massimi traguardi all'Inter. Gianni, allora Michele, io voglio chiederti questo. Adesso avete dato dieci milioni all'Autaro. Nove più bonus. Quando Cialanoglu va a rinnovare il contratto? Quando Barella andrà a rinnovare il contratto? Li vediamo? Abbiamo una tabella degli stipendi. Hanno già rinnovati quelli che vengono. Eccoli qua. Questi sono gli stipendi e le scadenze. Il primo, ecco, ad esempio... Era l'ultimo Gianni questo. Hanno rinnovato tutti. Barella 2026, ad esempio. Ha rinnovato Barella. Si manca solo l'ufficialità. Eh, ho capito. L'Autaro era l'ultimo. No, perché la domanda è questa. Quando tu ti senti un leader di questa squadra e Barella... E' riconosciuto, leader riconosciuto, Lautaro. Sì, no, ma dico, non è che si sente un secondo livello Cialanoglu o anche Barella si senta... Ecco. Allora, questi giocatori qui quanto chiederanno? No, questi giocatori qui guadagnavano quest'anno più... No, Barella no, ma Cialanoglu sì, più di Lautaro. Perché Lautaro non era ancora il suo momento. No, ma non guardare il passato. Io guardo al futuro. Eh, il futuro. Perché oggi quando hai creato un precedente di un giocatore importante che prende... Ecco, voglio dire, Cialanoglu, 6 milioni e mezzo. Quando andrà a rinnovo, e l'anno prossimo devi farlo, rinnovo di Cialanoglu... No, perché scade nell'altro rinnovato l'anno scorso... L'anno prossimo, 25, se non lo vendi il 25, dopo vai scadendo il 25. A 33 anni, nel 27. A 33 anni. Quando tu crei un precedente di questo tipo, giustamente perché se no va via... Allora, gli altri giocatori che sono altrettanto leader importanti... No, ma non sono altrettanto, perché un attaccante che segna con la fascia... Secondo me oggi... La Barella non è giusto che guadagni meno della metà. Ma non è vero, no, Barella, questo contratto è quello vecchio. Adesso sta rinnovando e arriverà con i bonus a circa 7. Lautaro mette i 9 di base e siamo nella giusta gerarchia. Vedi come cresce il Monti Gaggi. Che è la tendenza... Ti chiedo scusa, io prima facevo questo ipot, ti parlavo di cosa sono i fondi. I fondi hanno, ribadisco, l'ha detto anche Fedele con Fallonieri ieri. Sì, sì. E dice... Ti vorrebbe Marotta, ha detto con Fallonieri. Ha detto, io gli invidio molto Marotta. E io anch'io lo invidio. Dopo parliamo anche di dichiarazioni di Materazzi. Però lui ha detto questa roba dicendo, però i fondi vogliono guadagnare i soldi e pensano solo ai bilanci. Allora, questa roba che è legittima, se vuoi vincere vuoi mantenerti il tuo centro avanti, vuoi mantenerti il centrocampista della nazionale e via dicendo, voglio dire, però è controtendente rispetto a quello. Allora, questi ingaggi, non è che l'Inter fa il passo e dopo vediamo cosa succede in campo. Siccome in campo è successo qualcosa che ti ha portato più soldi, l'Inter si sta permettendo di alzare l'ingaggio a questi giocatori. Perché? Nuova Champions, mondiale per club, per esempio lo sponsor Batson.sport che sarà al posto di Paramount. Porterà a 30, che è la cifra più o meno che prende il Milan. Però l'Inter l'anno scorso, prima non è stata pagata da Digital Beats, quest'anno Paramount 11 milioni, fa uno step superiore come sponsor. E così via una serie di ricavi in aumento che ti permettono, l'Inter non spora il costo squadra e sotto controllo un dirigente come Marotta, Antonello, hanno quel tipo di obiettivo, di avere il costo squadra che non deve superare. Tra l'altro l'Inter ce l'ha pure per iscritto con la UEFA, non lo può superare, anche volendo. Quindi, sia perché il fondo vuole tenere il livello alto, perché i soldi arrivano dalla competitività, e sia perché questi giocatori se lo sono guadagnato sul campo, oggi l'Inter ha la gerarchia anche nel monte in gaggi perché ha avuto continuità. Per esempio alla Juve io vedo Vlaovic 12 milioni Ezio, e allora gli altri... Non ancora, però... No, 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 già... Dal contratto... Eh, li prenderà nei prossimi due anni. Per dire, tutte le squadre hanno il top, il top all'Inter è giusto che sia Lautaro. Se Vlaovic prende 12 milioni, Lautaro... di Andrea Agnelli, eh... Sì, sì, però all'Inter è giusta questa gerarchia qua, Pabarella aumenterà... All'allenatore... All'allenatore che... Comunque se Vlaovic prende 12 milioni... Comunque, ribadisco quello che ho detto prima. Prego. È bravissimo, io non mi ricordo chi è che ha detto che tu, sono serio, eh, lo dovresti fare, direttore della comunicazione dell'Inter. perché va tutto bene. È tutto bello. Non avete... Il fondo è venuto, un fondo è venuto da voi... Per investire e far crescere. Per investire. No, per investire. Per la maglia vero azzurro. Per guadagnarci. Per la doppia stella. Abbiamo più soldi di prima, adesso. È tutto rose e figli. Abbiamo più soldi di prima, adesso. Abbiamo più soldi di prima, cosa vuol dire esattamente? Abbiamo più soldi di prima, adesso. Ma cosa vuol dire? Ma dove l'hai visto? No, lui dice i ricavi che sono in crescita. Ma se devi dare 400 milioni il prossimo anno, che ti scadono i bond, è quello un debito del... Ma no, è 2027, Gianni. Ma scusate, ma se la società ha arrivato l'Inter, è un miliardo e mezzo di... Ma, perché... Ma Simone, ma allora il Como è la società più ricca d'Italia. Presidente più ricca. Che vuol dire? Uno i soldi ce li ha, poi si ritira in tasca. E li spende per te, Oktri, i soldi. Ma se no, non prende... Guarda che non è che ci sia il signor Giovanni Oktri. Oktri è un fondo che gestisce soldi di altri a cui deve rispondere se non porta... E come si risponde facendo business col calcio? L'unico modo per avere... Vendendo la squadra. No, vendendo il club, non la squadra. No, vendendo il club, non la squadra. La squadra sono i giocatori. Se vende i giocatori non vinci. Io dico l'Inter FC. Stiamo rientrando in tutto il club. Ah no, certo, deve vendere il club. Deve avere lo stadio di proprietà, se no non lo vendi. Esatto, giusto. E lì devi fare una bella accelerata. Poi... Accelerata. Al giugno si aspetta WeBuild per la ristrutturazione di San Siro. Ma anche un anno fa ci hai detto che San Donato... No, San Donato sono loro, noi Rozzano. No, no, dove eravate? Poi vicino, Rozzano. Rozzano. Era già tutto a posto. No, non è tutto a posto. Si aspetta adesso a giugno per... A giugno, già siamo a giugno. Entro il 30 giugno WeBuild dirà... C'avevi detto... Credi a quello che ha promesso il sindaco con WeBuild? No, sto dicendo che quello lì, una volta che presenteranno il progetto... Ma ci aveva detto che aveva comprato il terreno? No, ha l'opzione per comprarlo l'Inter. Il Mila l'ha comprato a San Donato. Poi siccome non aveva i soldi il cinese, si sono fermati. No, perché aspettano... Mentre il Mila è andato avanti e l'ha comprato il terreno. Anche il Mila si è fermato. Anche il Mila sta aspettando San Siro come lo ha finire. Allora, ragazzi, Mila ha comprato il terreno. Sì, ma sta aspettando anche il Mila San Siro, il programma di ristrutturazione. Non gliene frega niente. Eh sì, non gliene frega. Compri 30 milioni in terreno se ti vuoi andare a ristrutturare San Siro. Ma dai! Ma dai! Io so per certo che c'è l'interessamento di una grossissima... Una delle famiglie più potenti, della famiglia reale dell'Arabia Saudita. Quindi... Quello è un altro, diciamo... Il famoso fondo PIF, no? No! Che vuole il Furegiani, però... Il fondo PIF? No, vabbè, adesso fondo non fondo. Io credo che l'obiettivo è normale che sia guadagnarci. Questo siamo tutti d'accordo. E però, ripeto... Anche perché questi non è che producano biciclette, auto, aeree... No, ma Ezio, ma per guadagnarci non ti puoi permettere di avere una squadra che non ha i risultati. Soldi. Questi fanno girare i soldi. Ezio, l'Inter è stata valutata da Football Benchmark. Proprio l'altro giorno, la Juve è un miliardo e sette. Il Mila è un miliardo e quattro. L'Inter pure un miliardo e quattro. Tra l'altro l'Inter, come il Milan, negli ultimi otto anni, è la squadra che è cresciuta di più, valeva 400 quando l'ha presa Zuling. E sai questo miliardo e sette? No, il valore del brand. Quanto fa in percentuale nel mondo Exor? No, t'ho capito, t'ho capito. Ma la stessa Juventus adesso si siederà con la UEFA per firmare un nuovo settlement agreement. È entrata adesso anche nel Lega, tra l'altro, di nuovo. È stata accolta a braccia aperte da Seferin. Quindi ha abbiurato quella che era la Superlega. Ma è la continuità aziendale? Ha abbiurato alle 22.38 un po' troppo. Vado da... Ha detto di no alla Superlega. Bravissimo, però un po' troppo. Vado da Alberto, voglio capire se Lautaro Martinez è un top player da 10 milioni di euro l'anno. Oppure se l'Inter a un certo punto avrebbe dovuto ragionare su... Secondo me, inizialmente, Lautaro era considerato uno straincedibile, soprattutto per il valore che ha dal punto di vista tecnico e il valore anche intrinseco della fascia del capitano. Questo tira e molla e soprattutto questo tirare un po' la corda attraverso il suo agente è un po', secondo me, ha indispettito anche la società che aveva le sue idee, che ha mantenuto Polso, che ha fatto la sua offerta. In questo caso, beh, i complimenti vanno fatti a Marotta, perché ha dimostrato sempre una certa linea dettata anche dalla società. Sinceramente non mi aspettavo questo comportamento da parte di un giocatore che è sempre andato sotto la curva a dire, resto qui, voglio fare la storia dell'Inter. Ecco, mi immaginavo qualcosa di diverso, anche se il caso Scrinia rinsegna non bisogna mai arrivare molto vicini a una scadenza di contratto. E però sai, a due anni poi cominciano a frizionare. Diciamo che una volta eravamo abituati ad altri tipi di capitani, no? Cioè quando leggo Gagliani che racconta che Costa Curta arriva col contratto vuoto. Ma prima l'Italia era del Dorado, adesso purtroppo ho l'altro offerto di più. No, ho capito, però quanti anni ha Lautaro Martinez? 27 queste state. 27 anni, sei in Italia, sei bene in Italia, la tua famiglia sta bene in Italia. Ragazzi, ma vedete tutti i top player delle squadre italiane, quest'estate sono tutti, quasi sicuro se ne vanno tutti. Sì, però lui dice che, ma Ozymane non mi ha sentito dire, amo il Napoli, la mia famiglia. Ma però Vlaovic l'anno scorso la Juve l'ha messa sul mercato. L'anno scorso. Eh ma anche quest'anno se arrivano 80-90 se ne va. In un momento storico del genere in cui l'Inter ha passato di mano, se poi sia una cosa migliorativa o meno. Comunque c'è stato un cambio di guardia, mi sono sembrate eccessivamente fuori luogo le dichiarazioni della gente. E quanto è successo in questo momento? Cioè, lo ricordava Michele prima, due anni dalla scadenza, che secondo me comunque comincia ad essere una data, qualche campanello d'allarme. Però forse potevi aspettare anche l'inizio del prossimo campionato, fare calmare un po' le acque e discutere di un rinnovo che ci vuole e di una valorizzazione dal punto di vista pecuniario che Lautaro Martinez merita, assolutamente. Perché vedevamo ieri gli ingaggi, stonava un po' il fatto che fosse Shalanoglu il gacciatore più pagato rispetto a Lautaro, super campione. Si poteva aspettare un po'. Però Alberto hai ragione, ma visto che c'è una nuova proprietà, questi nel momento in cui arrivano, rinnovano... Subito, non approfittano. E questi staccano un certo biglietto da visita, in positivo, rinnovando... Però non è che si potevano spingere a piacere verso 12, 15, 18. Cioè, loro potevano fare quello che si sono spinti al massimo. Adesso era Lautaro che poteva dire sì o no. Perché l'Inter non è nelle... ma l'Inter tutti... Direi che non si può lamentare Lautaro con questo contratto. No, però ripeto, altri hanno fatto altre scelte. Ma prima Paolo ti ha chiesto... era stato richiesto da qualcuno Lautaro? Ho capito, ma lui all'agenda, questo Camagno l'ha sempre detto, mi ha detto di non parlare con nessuno per non dare segnali. Ma Morina, io non capisco perché a voi brucia... Voi inteso come compagine bianconera, brucia così tanto che Lautaro sia attaccato ai colori nero-azzurro. Allora, solo perché stiamo... È attaccato ai colori Lautaro. Ti spiego una cosa, sai perché stiamo parlando di questo? Perché si stava parlando dell'Inter e di Lautaro. Forse non te ne sei accorto. Ma è attaccato ai colori. Quando parleremo della Juve, però tu non mi diamo fuori l'Inter, parleremo della Juve e l'argomento sarà Juve. Adesso ti sottolineo, parlavamo di Lautaro e allora ho parlato di Lautaro. Come diceva prima Paolo, oggi uno che sta all'Inter, cioè non è che arriva a chiunque a convincerti che si può stare meglio, essere lo stesso ambizio. Per esempio l'Atletico Madrid che si dice vuole Lautaro. Ma tu vai all'Atletico Madrid, dai Real e Barcellona che sono più forti ogni anno in patria. In Europa non hai più possibilità dell'Inter di vincere la Champions. Cioè non è che ci sono chissà quante squadre che ti possono... Non è allettante. Eh, per esempio Bastoni, Barella, non è che non ci hanno provato. Ecco, per esempio la politica diversa Gianni del Milan, se tu aggredisci uno che guadagna due, tre, ma anche quattro e gli offri otto, diventa difficile tra tre. Se tu inizi ad avere gli ingaggi a 6-7 o 9 addirittura, diventa più difficile andare a... Vedi Ozyman che diventa più difficile da andare a prendere. Li partiamo tra poco. Come non sottovaluterei l'attacca... Insomma, certi principi del ragazzo di Lautaro Martinez, anche prima avete parlato di Ozyman, non sottovaluterei neanche i principi di Ozyman, perché anche lui è un ragazzo, secondo me, di forti principi. Una battuta sola. Al ruolo, ti prego Gianni. Però l'ultima, eh, ragazzi. Io sono il primo ad essere nostalgico, ad essere appassionato alle maglie, ai baci, però scordiamoci queste cose qui, perché non sono più il calcio di oggi. Ti hanno letto una lista prima che andava avanti ancora per 340 anni. Due, ma hai detto Roberto Baggio, prega per noi, ma perché? È interista Roberto Baggio, eh, non so io. Allora, caro Roberto Baggio, se vuoi intervenire i telefoni sono aperti. Ripartiamo dalla questione Juventus Allegri, finita come peggio non poteva finire. Se andrà addirittura in tribunale. Se andrà addirittura in tribunale.